E sulla sicurezza sul lavoro poco fa Antonio Morgilla ha raccolto una dichiarazione del direttore generale dell'INA. Gli ultimi dati sugli infortuni 2011 e la riduzione dei casi mortali sono certamente confortanti. È un incorreggiamento per proseguire nelle politiche di formazione, consulenza, assistenza, ricerca e sostegno ovviamente alla ricerca in questi importanti fatti specie. INAI sta pensando ai lavoratori, aumentando la tutela privilegiata che la Costituzione prevede, nello stesso tempo pensa alle imprese investendo in sicurezza perché investire in sicurezza conviene e tra qualche giorno verranno sostanzialmente assegnati 205 milioni per quelle imprese che vorranno investire nell'implementazione dei loro livelli di sicurezza.